eh con chi stai arrabbiato? con nessuno ah pensavo che stavi arrabbiato con me ci ho messo molto ma proprio io scusate ma mamma voleva quello la lei te l'ha chiesto? si tu gliel'hai chiesto mamma quel disegno? si quando? stamattina gli ho detto se no non comprava le gommie ferma che ti sta crescendo il naso no no le bugie non è vero allora pure tu la bugie mi hai detto ce l'ho allungo? no non ce l'ho allungo ma che ma metti degli occhiali io stavattina gli ho detto anzi l'altro giorno già gli ho detto quando il nonno ti compra o papà o la mamma ti compra le gommie e trovi una maglia della Juve me la regali? e lui ha detto mamma no perché mi serve per la collezione te la disegno e io ho detto va bene disegnamela è vero Diego? Diego allora adesso si che sono arrabbiato perché io le bugie non ci credo no e me l'avete detto tutte e due io è una bugia? no si che è una bugia la mamma non ti ha chiesto niente stamattina tu gliel'hai fatto no forse dici le scarpe con orecchie e stamattina tu stavi con le orecchie ancora chiuse perché dormivi e non hai sentito parla con papà diglielo diglielo Diego no non mi interessa parlare con lui domenica io e Vittorio ci mettiamo le magliette la sciarpa mettiamo la bandiera grande ci sediamo qua sul divano a vederci Juventus Inter invece lui se ne va a casa del nonno Tommaso e se la vedono al telefonino seduti sulla sedia e quando finisce la partita facciamo pure una partita alla play io e Vittorio io con Vittorio con l'Inter contro la Juve e gli spacchiamo tutti alla play che cosa